GAME YEA Un po' punk Un po' punk perché vuole ribellarsi al padre Ah perché She was a skater boy Si No you was a skater boy She said she'll see you later boy See you later boy Ah è Sam Questa è la Sam Vai muoviti salviamo la più carina del gruppo La più carina e anche la più pro La più pro Eh si C'è la bega e non l'ho salvata dal Di qui Yes No mi sa che erano quelle a doppie porte di prima Si si Per vedere Peekaboo Si Eh si è Sam Ma è morta Eh si è Sam Oh che bello Oh Oh Uh mi sarei sentito in colpa Se fossimo fuori Oh che bello Oh che bello Hai le forbici Hai le forbici Oh Pezzo di fango Boom Boom Ancora Un altro cazzotto in faccia si è preso Oh che si Oh no Oh Ah ok siamo di nuovo qua Va bene Aspetta Eh Aspetta 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 Dove sono i totem Dove sono i totem Superati Eccoli qua Totem giallo Abbiamo superato tutto Sì sì No questa no Perché te l'ho detto Sono in ordine sparso E questo qua era Ah ok Quello si Ok Ok Aspetta Aspetta Hey Gabo Hey Idrino E siamo qui Ah lei è pure Lei è pure ammanettata E ha anche l'occhio nero ovviamente Perché si è preso un cartone Si è preso un sasso in bocca Ah lei è ammanettata lui no? Mh No lui è ammanettata Cioè è legato alla sedia Ma non è ammanettato Ah no Ha ammanettato solo una mano Ah beh perché C'è la pistola lì Si Non è lì di dare Che cosa? Ah io speravo Se rompere Manticina Manticina Che ti amo Sei Sì E ora Mi chiediamo Abbiamo spostato tutto Che carino Questo è l'insegnamento ragazzi Mai perdere tempo Mai Quindi da sempre cogliere l'occasione Carpe diem Coglite l'attimo ragazzi Cosa succederà? Oh you should be Ash Because here's the twist Mh Chris has made one fatal choice already today Mh And now You must make another Mh Chris You can take that gun in front of you And shoot Ashley Oppure puoi sparare a te stesso Cosa farai? Boh Il totem mi diceva di posare la pistola Eh vedi tu Qui è dove A chi punterai Se ad Ash Lio a te stesso Cosa fai? Che carina Cosa fai bro? Eh si Devi decidere a chi sparare E hai poco tempo Non lo spara nessuno Ok As you wish Scelta tua Partita tua Regole tua No Si pazza Andò Sta scendendo la sega circolare Eh amen Allora carriamo tutti e due Non mi sembra giusto Cos'è tipo Game of Thrones Se non si vede non è ancora morto nessuno Esatto No è come i film Cioè se non si vede non si sa Oh Dottor Collina Eh? Non ti vedete che questa Torra di porn Ha venuto troppo far Eh? Ora cosa ti dà il diritto Di giocare Dio Ah ma stava parlando con lui? Si Per tutto il tempo Evidentemente Ah che bello E vabbè Tu sei un michilista E quindi? E quindi? Done Cheارl Sì A che dire? Nel Viaccopter Negli episodi precedenti di A che avvelo avanti Che vi cambia Tarpe, luce. Sise. Sise. Di Sise. Bello, eh. Bello, bello. Ehm... Che stavo a dire? Ah, abbiamo finito appunto un altro capitolo. Ah, sì? Eh sì. Siamo quasi alla fine di questa merda, di questa merda, di questo incubo. Sì, tipo di Death Jet. Questo dovrebbe essere il capitolo 7, ne dovrebbero essercene forse ancora tre. Dovrebbe... Sì, dovrebbero essere dieci se non sbaglio, perché in Life is Strange erano cinque. Ehm, infatti, me l'ho confuso all'inizio. Siamo tornati da... No, questo qui è sempre quello che è successo prima. Ah, ok. Boom. Eh, lui l'abbiamo abbandonato all'inizio del capitolo. Sì. Puoi far vedere sempre il tizio col macete. Violenza. Puccio, puccio, renza. Fatti, vai, violenza. Mike! Li scippo. Sì? Li scippo tantissimo. Dai, su. Dai. Dai, lui che è cresciuto, è diventato questo Nathan Drake della Madonna, lei che è una bella tia. Ah, qui, piano, è col macete. Ah, e perché? È ancora il macete. Sì, è vero. Lei si ricorda anche un po' Elena Fischer. Sì, è vero. Quanto non gli scippo. È vero. OTP, OTP. OTP. Sì, è vero, l'OTP qui sono loro. Cioè... Prima stava con una perché erano rompi i coglioni, poi è stata con una perché rompe le balle. È cresciuto, è diventato Nate. Fuck, Jessica. Fuck, Jessica. Sì, mi parla anche come Nate adesso. Oh. Sì, è stato dei filmati, delle 3 not to life challenge. Mi ho perso. Mi ho perso perché vedevo Josh che moriva e mi sono messa a ridere. Gabbo. Dove lo devo fare? È una porta molto seriosa. È una porta. È una porta. Ah, lo zaino. Dov'è? Questo è qui, X. Lo zaino rosa suo. Così ci vestiamo. Olè. Ah no, prendiamo solo la torcia e lo zaino. Prendiamo solo la torcia, non è che ci vestiamo. Piedi nudi. Belli neri. Beh. Ok. Ciccia. Vestiti. Ma non hai vestiti magari dentro. Nello zaino? Stai per due giorni? Secondo me sì. Ah. Era facile. Così facciamo entrare Mark. Ui, Marcolino. T'ha posto. Dai, fai il vero uomo. Dove è la giacca? Eh, dalle la giacca. Fa il vero uomo. No. Ah no, lei si veste. Eh, brava. Brava ragazza. Sì, vedi, è proprio Nate. È proprio Nate, sì. Sbircione. Ah, all'improvviso, vestita. Chiappe. Con gli sci... Con tipo i leggings da... Dall'allenamento. Yoga pants. God bless yoga pants. Pum. Crikey. Vai. Ah. Ovviamente lei l'ha messa sul coso più duro. Ah. Uh. No, no, no. Andiamo a rompergli il culo. Questa ricazzo. Era salve. Ah. Chris, Chris, Chris. Cosa ti ho detto? Ci vediamo nel prossimo episodio. Fa un po'. Mi può... Rami un cazzo. Fuck society. Eh, fuck society. Fuck... Fuck sta minchia. Fuck si... Sì, ma ti sfondo lo scroto con un pugno. Lo scroto? Sì, lo scroto con un pugno? No.